Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Gamers Brothers Rival Speriamo di finirlo Ci avete detto che mancava davvero poco al finale Quindi vogliamo assolutamente concluderlo Accidenti, che cavolo, è già Slender No Ai ai ai, è Pog, stai prendendo fuoco Dobbiamo andare verso l'occhio di Sauron Ai 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 ai, dolore, dolore Che bello l'occhio di Sauron, guarda lì, fierissimo che si ergi Soprattutto questa, siamo nelle terre di morto Ai 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 ai, dolore I follow, I follow your day baby I follow, I follow your day baby I follow, I follow, Iaiaiaia Cosa? 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 Non c'era No way Non c'era Non c'era, cosa non c'era neanche? Si sono girati l'albero 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 era un po da padre maronno questa uscita per ora va bene riproviamo aia 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 dove di qua che trovano assomiglia un po più a tipo una candela in questo momento non si va soprattutto se fosse passata lì in mezzo wow 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 calmo slandy ok tu devi semplicemente camminare dritto sì ma probabilmente dove si erge il fuoco dobbiamo girare forse di qua cosa vuoi? Che cos'è quel suono? un giro da qui probabilmente si dai cos'è ma no 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 aia 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 no slender no slender aia 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 problema ho paurissimo bello perché se ci capita di… ok e qua ci siamo andai Non siamo lontani Non la mette vicino Montefatto L'anello L'anello Me lo sono dimenticato a casa Ci siamo Allora l'ultima volta Ci ha ucciso non si sa cosa Aprendo una porta Gli iscritti ci hanno detto Devi aspettare che finiscano tipo gli urli E poi puoi proseguire C'era una chiave da qualche parte Mi ricordo c'era una chiave Dentro la porta mi sa Questa era la porta che non si apriva No era l'altra che non si apriva C'era una chiave qui tipo Non c'è Benissimo perfetto Perfetto è sparita la chiave E come lo continuiamo noi slender di Arifal Io vorrei sapere Prova a dare l'altra Mirky Forse è qua Eccola Chiudiamo Abbiamo la chiave Ecco Tutta sta roba qua Ti suoni Proviamo ad andare subito Ok Vai beh Ma è un coglione È un coglione Ma guarda che coglione Ti stai baggando in mezzo alla porta Corri 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 Your flashlight is dead Perfetto Ora Proprio ora Ci voleva Ci voleva Ora Corri 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 BANGING CON LA TESTA! BANGING CON LA TESTA! METALLICA! Cosa sta facendo? Ma cos'è? I'm so sorry! I failed you! I'm so sorry man! Non capisco! No no man! No way man! Cosa sta succedendo? Sta paurissima! Non vedo! Non si capisce niente! Avanti! E' aperto! E' aperto! Oh no! Oh mio Dio! No! Questo è il finale? Enigmatico! Questo è il finale? Aspettate perché io per ora ho criticato abbastanza positivamente questo gioco! Si! Ma questo è un finale? No ma che finale è? Fermi! Allora! Facciamo un paio di considerazioni! Partiamo dall'inizio del gioco! L'incipit è stato molto carino! Che comunque ti introduce un po' nella storia! Vai nella casa! In primo incontro con Slender! Scappi nel bosco! 9-8 panni! Bellissimo! La parte più bella è stata quella dei generatori! Con i maschi lì! Con il graffitaro! 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 Insieme a Slender che è stata davvero una parte ostica! Ma mamma mia! Mi abbiamo provato tantissimo! E da lì proprio mi stavo innamorando di questo gioco! Strabello! Poi siamo avanzati! Siamo usciti! E c'è stato il flashback di lei nella casa! Quello molto carino! Quello bellissimo! La fuga finale nel bosco incendiato! Ci può stare benissimo! Non lo capì ma... Va bene! Cioè alla fine sì! Il finale! Allora intanto cos'erano quelle cose blu che apparivano a random così! Poi siamo arrivati in un vicolo cieco! C'era un cadavere con una videocamera che quando pare era la sua! Dopo essere stato ucciso che ha fatto la nostra stessa fine! Però questo non è un finale! No dai! Non puoi neanche dire che la sorpresa ti lascia insospeso! No! Non è proprio... Cioè ok! A me dispiace dirlo però è un finale fatto col culo! Bisogna dire dalla serie! Sì infatti! Hanno fatto i loro 4-5 capitoli e dicono come concludiamo i capitoli! Ma pensa... Non lo so! Ma non lo so! Facciamo che schermo nero finisce il gioco così! Sì facciamo una telecamera e mandiamo dei suoni... Un bel schermo blu! Errore del sistema! Uno bruciacchiato un po' male! Esatto! Non mi bisogna anche tantissimo! Ragazzi mi avete deluso sul finale però questo non è un finale! No dai! Non era un finalone questo qua! Io mi aspettavo un bel finale! Non so! Slender moriva o... Beh! Cos... Certo! Slender moriva e dupore suscitava! Essendo un horror è vero non potevamo morire in Slender! Comunque... Morivamo noi ma in altre maniere! Cioè dopo una fuga da cardiopalma! Questa qui è stata una fuga abbastanza breve! Sì infatti! Ci imbattiamo in Slender! Ce lo troviamo davanti di qua e di là! No! Si spegne una luce! Non ci prende e i maschi ci stupra pesantemente! Cosa del genere! No no no! Si spegne una luce! Anche un finale migliore sarebbe stato noi che inciampiamo e prendiamo fuoco! Sì infatti! Più sensato! Quattro framerate di roba blu e poi finisce! Questo non ha un senso! Non avevo neanche visto chi ci ha aggredito! Tanto io saluto Raul Castillo! Grandissimo! Un nome a casa! Un altro è Robert Jostrom! Grandissimo! Lui è... Questa è davvero finita! Avvisi così eh! È davvero finita! E come vedete non ci sono altre... Ci sono altre cose! È davvero finita qua! È un peccato! È un peccato perché era davvero... Davvero bello! Nel complesso è un bel giorno! No è davvero un bel giorno! Ma il finale davvero lo ha penalizzato tanto ma tanto! Beh insomma purtroppo questo è quello che è! Eh... Ci siamo comunque divertiti a registrarlo! E... Dopo questo finale davvero tutto! È davvero tutto! Ci vediamo al prossimo episodio! Ciao! Ciao!